buonasera ragazzi ben ritrovati a tutti allora mi chiedevate per somma x2 la mia formula o metodo di gioco per quanto riguarda il gioco dell'otto logicamente per i nuovi iscritti giustamente mi hanno chiesto ma cos'è questa somma x2 come si fa come si calcola perché tanti di voi so che non hanno computer e quindi vorrebbero magari provare a casa scriverlo su un foglio magari con le estrazioni e segnarlo appena a mano perché tante persone purtroppo non avendo computer non possono usufruire nei miei programmi comunque adesso vi spiego com'è la tecnica allora è molto semplice semplicissima si devono intracciare due numeri in decina da 10 a 90 e i numeretti da 1 a 9 è semplicissimo ci deve essere sempre un numero zarato da 10 a 90 è un suo numeretto sia su ruote sia su doppia ruota sia su ruota unica allora cosa si deve fare è molto semplice si deve sommare la due le due i due numeri isotopi e si creano le prime ambate che è il 22 e sul vertibile 29 ci siamo il 22 lo si sottrae al 90 per trovare l'abbinamento quindi prima ambata 22 meno 90 fa 68 e si fa anche il vertibile 86 quindi abbiamo una prima ambata trovata con i primi due abbinamenti della prima ambata quindi 68 e 86 abbinati al 22 ma dato che per completare l'opera ho notato che col vertibile della prima ambata sono usciti altri esiti quindi ho preferito programmare la formula in questo modo si trova il vertibile della prima ambata che in questo caso il 29 essendo gemello tutti i numeri gemelli da 11 22 33 44 il suo vertibile è sempre con cadenza 9 quindi 22 29 11 19 33 39 ogni vertibile del gemello ha la cadenza 9 quindi una volta tramato trovato il 22 il 29 cosa si fa col 29 la stessa operazione dalla prima ambata 29 meno 90 fa 61 e si fa al vertibile 16 e abbiamo gli abbinamenti per il 29 ok quindi abbiamo due ambate che spesso si collegano anche con le due con i quattro abbinamenti che abbiamo trovato facendo fuori 90 sia con uno che con l'altro quindi non è detto che il 22 possa uscire sempre col 68 86 ma il 29 può trovarsi anche con 68 86 e viceversa con 22 61 16 dell'altra ambata vertibile facendo il fuori 90 ok ecco cosa ne consegue allora quarto colpo questa previsione recente noi andiamo indietro vediamo che il primo colpo abbiamo il 22 e vedo che comunque non c'è un ambetto perché non c'è nelle 16 nel 61 68 nell'86 ma se noi andiamo avanti al quarto colpo abbiamo la doppia ambata e abbiamo l'esito col 61 quindi un ambetto secco avete visto quindi la procedura è questa qua trovare due numeri che hanno un numeretto e uno zerato in asse ok facendo praticamente una x perché l'ho chiamato somma x somma x perché da l'idea di una x avendo lo zerato anche davanti al 2 quindi è come se i due numeri si incastrassero uno con l'altro ok bene vediamoci se qualche esito qua nelle altre estrazioni tanto che curiosiamo io questo video ripeto lo sto facendo per i nuovi iscritti tanti lo sanno come funziona il mio metodo quindi non c'è bisogno di spiegarlo vediamo se c'è qualcos'altro eccolo qua allora qui siamo al 19 novembre abbiamo un numero zerato che in questo caso è 40 e il numeretto qui a venezia quindi genova venezia 47 74 47 prima ambata 74 vertibile quindi abbiamo due ambate 47 74 poi come si fa a trovare gli abbinamenti semplicissimo alla prima ambata si fa il meno 90 ed esce fuori 43 e si fa al vertibile sempre dalla prima del primo abbinamento trovato quindi 40 si trova il 43 e si fa sempre il il vertibile 34 poi dall'altro vertibile dalla prima ambata che 74 si fa sempre il meno 90 ed esce fuori 16 sempre dal ritrovamento dell'abbinamento con la seconda ambata si fa il vertibile 61 ok e abbiamo una giocata completa e infatti al terzo colpo il 47 esce comunque sia con i suoi abbinamenti quindi 47 43 e 34 i suoi abbinamenti guardate qua addirittura c'è un ambetto con 47 perché qui c'è un 43 e anche questa previsione è andata a buon fine avete visto qua addirittura c'è un altro ambetto guardate 46 e 47 come ambata quindi bene o male anche gli ambetti sono molto frequenti anche questo sistema il metodo quindi poi si rivela sempre efficace perché chi ha programmino può notare veramente che ogni mese ogni settimana c'è sempre esito positivo per quanto riguarda questo tipo di gioco e di formula se no adesso prendiamo di nuovo l'esempio del 16 di novembre abbiamo due ruote unite il consiglio sempre anche ruote unite qui avete la spunta che al programmino di avere ruote unite e togliendo la spunta di avere ruote anche separate il bello di questo programmino è questo che potete sviluppare molte più previsioni subito pronte allora veniamo con successo tra cagliari e firenze io adesso vado avanti primo colpo niente secondo colpo niente terzo colpo niente quarto colpo eccolo qua e ancora una volta 87 12 il vertibile vedete che il vertibile la prima ambata ha centrato con l'abbinamento del primo numero meno 90 capite perché vi dico giocate le due ambate insieme a tutti gli abbinamenti perché può trovarsi l'ambata con l'abbinamento della seconda ambata quindi vedete che è qui comunque si abbiamo un 2 e qua c'è un 3 e un altro ambetto quindi qui c'è una vincita ad ambo ma anche con un ambetto capite poi andando avanti vediamo se c'è ancora qualche esito niente adesso vediamo ancora altri esiti ecco qua che sempre nella stessa estrazione del 16 novembre abbiamo l'otto vedete un numeretto e sotto un numero zerato che in questo caso l'ottantina 8 più 80 88 vertibile 89 prime due ambate 88 meno 90 2 vertibile 20 89 meno 90 1 vertibile 10 cosa è successo con questa previsione e qua siamo a ruote separate avete visto quindi togliendo la spunta qui noi non abbiamo più questa previsione vede che non compare se io tolgo la spunta l'avete che si formano quindi altre previsioni quindi non solo efficace su ruote unite ma efficace anche su ruote separate quindi questo sistema è una bomba è una bomba con anche come posizione numeretti che poi per i nuovi ripeto per i nuovi iscritti vi farò vedere anche in un altro video come funziona numeretti e posizione allora veniamo un po cosa è successo 1 allora ragazzi fenomenale allora al primo colpo 88 lambata l'abbinamento è uscito col 2 ok ecco la previsione che si evidenzia prima abbata primo abbinamento centrato al primo colpo vediamo se c'è qualcos'altro ah ecco vedete possono uscire anche gli abbinamenti stessi senza la senza lambata si può fare con una sestina e giocandola su due ruote dove sono interessate logicamente le previsioni allora 4 5 torniamo un attimo indietro al quarto colpo allora qui c'è un 87 e qua sono 88 quindi qua c'è un altro ambetto vinto al quarto colpo andiamo avanti vediamo se c'è qualcos'altro no vediamo quasi ci sono altre previsioni che hanno dato esito vediamo qui c'è un 82 86 26 niente vediamo diamo una contrattina ad altre previsioni guardate qua scorro posso andare come voglio posso muovere come voglio eccolo qua bellissimo allora secondo colpo qui abbiamo il 2 a firenze il 10 a torino quindi gerato 10 numeretto 2 secondo colpo 12 ma qua abbiamo un 77 quindi l'abbinamento 78 e questo è un altro ambetto vinto vediamo se c'è qualcos'altro bellissimo allora quarto colpo abbiamo il 12 e l'87 vedete sempre dei primi due abbinamenti vediamo se c'è qualcos'altro ancora lambati si ripetono vi avete visto che funzionano e così via vediamo se ci sono altre previsioni ancora che danno esito niente niente ragazzi questo è un sistema che funziona sempre quindi non è detto che non possa funzionare mai funziona anche questo logicamente si deve se ci sono tantissime previsioni ma come vi ripeto se ne va a scegliere una e se la si porta avanti per 6 7 colpi non di più che hai vedete lambata allora abbiamo abbiamo il 50 e il 9 sempre isotopi 50 con 9 59 vertibile 55 allora vediamo se c'è qualche abbinamento sì allora 55 14 qui abbiamo il 13 per l'abbinamento quindi abbiamo un bel ambetto ok vediamo se più avanti dall'esito niente e così via le ambate escono furiosamente vedete 7 e 70 77 ambata allora ragazzi che ne dite del metodo funziona io dico proprio di sì ci saranno altre nuove previsioni in futuro ci saranno altre vincite e questo sistema secondo me da collezionare fra quelli fra quei sistemi che sono da considerare come valevoli quindi per i nuovi iscritti io lascio comunque in descrizione il link per scaricare il programma chi ha un computer può utilizzare questo sistema scaricandovi il pacchetto scompattarlo con we rar e poi logicamente lo potete utilizzare poi sul computer non funziona sui cellulari mi raccomando sui cellulari non funziona e neanche sul mac come sistema operativo quindi ok niente se ci sono delle novità vi avviso e domani e giornate di estrazione noi abbiamo con previsione insieme con somma x2 questa su palermo 28 che ho postato l'altro ieri date sul mio canale la vedete c'è un bel 28 82 62 26 da giocare su napoli e palermo ok quindi come previsione consiglio questa previsione poi logicamente potete farlo a voi e mi raccomando ragazzi da parte mia è tutto per i nuovi iscritti un grazie grazie davvero seguitemi mettete un mi piace iscrivetevi e non mi resta altro che augurarvi una buona serata ok ci riaggiorniamo comunque ragazzi un bocca al lupo bye bye marcus